Condannate Giuseppe Pecoraro all'ergastolo. Si chiude con questa richiesta la requisitoria dei pubblici ministeri. A processo Giuseppe Pecoraro, che bruciò vivo e uccise a Palermo il clochar Marcello Cimino. Il dibattimento si avvia adesso verso la conclusione, dopo che il giudice ha respinto la richiesta dei difensori di sospendere il processo per valutare la capacità dell'imputato di partecipare al giudizio. Agli atti del fascicolo ci sono già tre perizie. Quella di parte ritiene che il giorno del delitto Pecoraro fosse incapace di intendere e volere. Secondo il perito dell'accusa invece era ed è sano di mente. Allo stesso risultato arrivò il consulente nominato dal giudice. Marcello Cimino fu bruciato vivo a marzo dell'anno scorso, mentre dormiva su un giaciglio di fortuna davanti alla mensa dei cappuccini a Palermo. I parenti della vittima si sono costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Toni Palazzotto e Francesco Paolo Martorana. Secondo i PM si è in presenza delle aggravanti della premeditazione, dei futili motivi, era convinto che Cimino gli contendesse la donna con cui aveva iniziato una frequentazione e dell'avere agito con crudeltà. Fu lo stesso Pecoraro a confessare tutto dopo essere stato fermato dai carabinieri. Ero geloso, la insidiava, faceva battute che non mi piacevano. L'uomo, impiegato in un benzinaio della zona, ha 45 anni. Avevano avuto un litigio i due uomini, poi Pecoraro è ritornato di notte per uccidere Cimino. Il benzinaio è stato individuato e bloccato in strada. Si era fatto la barba, probabilmente per non essere riconosciuto, ma aveva una vistosa bruciatura su una mano. Ai poliziotti ha dapprima detto di essersela procurata usando la macchinetta del caffè, ma gli investigatori non gli hanno creduto. Accompagnato alla squadra mobile ha ammesso tutto. Per le attività investigative ci si è avvalsi delle indagini del convento dei Cappuccini e di una serie di riscontri, studiando le giornate precedenti al brutale omicidio. Sono stati ascoltati dei testimoni e svolte attività che hanno permesso di arrivare all'identificazione del responsabile. La tragedia si è consumata poco dopo mezzanotte. I vicini, sentendo le urla disperate dell'uomo, hanno dato l'allarme, ma quando sono arrivati i vigili del fuoco, per Marcello Cimino non c'era più nulla da fare. Separato con due figlie, Cimino aveva scelto di lasciare tutto e vivere in strada.